Washington autorizza l'invio di altri 2 miliardi e mezzo di dollari di armi a Kiev, tra cui 90 corazzati striker e 59 veicoli Bradley, un aiuto per il quale il presidente ucraino Zelensky ringrazia Biden e il popolo americano. E la promessa di altre armi, tra cui i carri armati, arriva anche dai nove paesi europei del patto di Tallinn. Oggi nella tedesca Rammstein è l'incontro tra Stati Uniti e alleati per coordinare gli aiuti a Kiev. Il Cremlino mette in guardia dalle conseguenze negative della decisione di fornire case armate pesanti all'Ucraina e sottolinea che l'Occidente si illude su una possibile vittoria. L'ambasciata russa a Roma lancia intanto l'ennesimo attacco contro il sostegno dell'Italia all'Ucraina e annuncia la cattura di missili di fabbricazione italiana sul campo di battaglia ucraino. Dal campo, nelle ultime 24 ore, l'esercito ucraino ha respinto attacchi russi nell'area di 16 insediamenti nel Donbass e nella regione di Zaporizia. E proprio a Zaporizia guarda il direttore della IEA, Rafael Grossi, che in visita a Kiev afferma che la situazione della centrale è molto precaria e che un incidente nucleare nell'impianto potrebbe accadere da un giorno all'altro. Intanto la federazione russa si starebbe preparando per una mobilitazione segreta in Crimea, lo afferma lo Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine e proseguono le esercitazioni congiunte russi a bielorussi al confine che stamani hanno provocato un nuovo allarme antiaereo in Ucraina per il decollo di due elicotteri da una base in Bielorussia.